L'abbazia di Sant'Eustacchio, fu fondata da Rambaldo III di Collalto attorno al 1050, su di una preesistente opera fortificata. Era un monastero benedettino, soppresso nel Cinquecento e oggi in rovina. I resti sorgono sulle pendici del Montello, nel comune di Nervesa della battaglia. Nelle immediate vicinanze dell'abbazia, si trova il Sacrario del Montello, monumento dedicato ai caduti, della Prima Guerra Mondiale. L'abbazia di Sant'Eustacchio, fu fondata da Rambaldo, monumento dedicato ai caduti, della Prima Guerra Mondiale.